Presidente Pallini, 2021 è stato un anno di ripresa per il settore dei vini, degli spiriti e degli aceti italiani. Ora c'è bisogno di consolidare questo recupero e di spingere verso una crescita maggiore. In questa direzione che ruolo possono avere la riduzione della burocrazia e l'introduzione di misure di defiscalizzazione? Anzitutto diciamo che il 2021 si è veramente chiuso sotto una nota positiva, soprattutto dal punto di vista delle esportazioni che ha toccato dei record anche migliori del 2019. In tutto il settore che noi rappresentiamo, vini, spiriti e aceti, ha esportato per quasi 9 miliardi di euro, quindi un record. A questo punto noi abbiamo bisogno di accelerare con tante misure di semplificazione e sburocratizzazione, mi perdonerete il brutto termine, che ancora attendono e che possono aiutare le aziende a dargli un booster che in questo momento di difficoltà economiche legate anche al momento politico internazionale sono necessarie. Da tempo noi chiediamo delle semplificazioni che sono a costo zero per il governo e che però ancora non hanno visto una chiusura. Ecco, un secondo fronte su cui agire è quello della internazionalizzazione delle imprese. Ecco, in questo settore che cosa si può migliorare ancora? Sicuramente abbiamo bisogno che tutte le forze in campo lavorino a sistema. Ancora dobbiamo dire che soprattutto nel settore del vino si lavora un po' a ordine sparso tra regioni, governo e province, consorzi, quindi è importante in un momento di difficoltà come questo, anche economico, con i costi dell'energia e delle materie prime che continuano a salire, che si coordini al meglio e si spendano al meglio le risorse. Le intenzioni ci sono, il patto per l'export che il Ministero degli Esteri ha siglato e i soldi che ha messo anche a supporto di queste azioni sono state emesse. Attendiamo adesso dei piani concreti, soprattutto di riuscire a sfruttare tutte le forze che abbiamo in campo, tra ICE, ambasciate, camere di commercio e tutte le attività che anche le forze della promozione orizzontale che l'Europa ci mette a disposizione possono dare alle nostre aziende. Un tema delicato sul quale siete da sempre impegnati è quello del consumo responsabile. Quali sono gli obiettivi di Federvini e quali le iniziative concrete che state perseguendo? Da sempre il tema del consumo responsabile è un tema centrale sia per la Federvini e sia per le aziende associate. Noi promuoviamo un consumo moderato, responsabile e sociale dei nostri prodotti. In questo quest'ottica stiamo sviluppando delle collaborazioni anche con l'Università La Sapienza di Roma che partiranno l'anno prossimo proprio per sensibilizzare gli studenti e per creare delle campagne che promuovano il consumo responsabile. Stiamo lanciando anche un sito che appunto promuove l'utilizzo consapevole e moderato dei prodotti alcolici e collaboriamo a livello europeo con le associazioni Spirits Europe e Wine in Moderation per continuare a sottolineare e promuovere il consumo responsabile. La pandemia prima e ora la guerra in Ucraina stanno imponendo uno scenario in continuo ammutamento. Le aziende del settore come si stanno adattando a questo nuovo contesto e personalmente vedete più rischi e più opportunità in questi ultimi due anni? Assolutamente è un momento complesso, sono settimane se non mesi che parliamo di una tempesta perfetta. Come abbiamo detto prima il 2021 si è chiuso sotto un'ottima stella, abbiamo visto delle crescite anche rispetto pre pandemia rispetto al 2019 sui mercati interni e internazionali. Purtroppo la situazione internazionale sta creando tensioni a livello dei costi energetici, del riperimento delle materie prime, aumenti su tutti i fronti e sta cominciando a impattare fortemente la capacità delle aziende di riuscire a programmare la produzione e anche le attività. A questo si sommano difficoltà logistiche nel riperimento dei container, aumento dei noli quadruplicati negli ultimi due anni, quindi la situazione internazionale è complessa non solo per quello che riguarda lo scenario russo-ucraino ma anche si riverbera su tutto livello internazionale, toccando anche purtroppo adesso le tasche dei nostri consumatori che cominciano a essere fortemente impattate dagli aumenti dei costi energetici.